Buonasera amici, questa sera sotto il tepore di questo caminetto, visto che fuori piove ho deciso di raccontarvi qualcosa, qualcosa che mi appartiene ma che mi appartiene, sì appartiene anche a voi perché si tratta del romanzo Contami la Calabria e vi appartiene, l'ho scritto io ma l'ho scritto per voi, per la mia gente, per la mia Calabria, a qui tengo tantissimo, alla mia gente che amo e che tengo stretta, stretta al cuore. Questa sera vi voglio leggere il capitolo 26 dal titolo Amori non mori ma campa in eterno, l'amore non muore ma campa in eterno, era l'anno 1986, donna mica diminuitivo di domenica, donna forte, indistruttibile, madre e moglie esemplare, nonna speciale. Si è spenta, a quasi 87 anni, dopo lunghe sofferenze, al suo funerale in Vibo Valencia presso il Duomo. Quel giorno che non potrò mai scordare, c'era un sole splendente, i quiraggi illuminavano tutta la piazza circondata da aiuole profumate. Io e la mia famiglia stavamo accompagnando la salme in chiesa. Il cielo era di un blu intenso e le nuvole sembravano disegnare angeli, che attendevano il passaggio di un personaggio meraviglioso, mia nonna, che sicuramente non avrebbe avuto bisogno di raccomandazioni per entrare in paradiso, se l'era meritato davvero tutto. Mi sentivo triste e nello stesso tempo fiera e orgogliosa di mia nonna. Quella donna straordinaria stava varcando le porte del tempio di Santa Maria Maggiore e San Leoluca, la chiesa che l'accolse da sempre, la parrocchia cui apparteneva da una vita e dove ha pregato per la sua famiglia, per il mondo e per intere generazioni. La gente la ricorda ancora, genuflessa, con le sue mani giunte davanti al tabernacolo o al sacro cuore di Gesù, a pregare con il suo libretto le ore. Anche il cimitero di Monteleone, il giorno del suo estremo saluto era pieno di fiori, piante e poesie a lei dedicate e sembrava, credetemi, un giardino dell'anima. Quanto ha amato questa donna, quanto ha donato al mondo, agli amici, alla sua famiglia, e a tutti noi nipoti. Mia nonna mi manca e mi mancherà fino alla fine dei miei giorni, però io so che lei è con me ancora, solo in un'altra forma. Quando passo dai momenti di crisi e di difficoltà le chiedo sempre aiuto e lei c'è, c'è sempre. Mia nonna mica, madre di mia madre, è la persona che più nella mia vita mi ha fatto sentire amata. Era unica in tutto, in tutto ciò che faceva. Lei ci viziava, cucinava cibi prelibati, ci riempiva di regali, teneva la casa pulita e in ordine, dava manci a tutti, ci portava in chiesa ad accendere la candela e chiedere le grazie a Gesù. Se ci penso, il ricordo è ancora vivo e fa male, perché manca una parte di me. Negli ultimi tempi prima che morisse, dopo essermi trasferita con la mia famiglia, all'età di 12 anni in via Monte di Pietà, nella parte alta di Monte Leone, continuamo a frequentare la casa dei nostri nonni. La sera dopo aver studiato, io e mio fratello ci recavamo la terra vecchia, la via dove abitava la nonna e dove eravamo cresciuti per farle compagnia. Lei era seduta sulla sua seggiola e la guardavamo cucire e rammendare. Poi uscivamo con lei nell'orto a raccogliere i pomodori e i frutti che lei stessa piantava. Nonostante fosse una donna molto anziana, era instancabile. Quando le andava di riposarsi un po', stavamo accovacciati con lei davanti alla tv, a guardare telefilm gialli. A me dei telefilm sinceramente non interessava nulla, però amavo stare così accoccolata con mia nonna, che mi faceva i massaggini alle gambe, alle spalle, che mi diceva che mi voleva bene, che ero bella, intelligente e soprattutto fortunata, anzi, Fortunella mi chiamava Fortunella. Lei mi diceva, Teresella, sei Fortunella perché sei intelligente e bella. Da quando era morto mio nonno, parecchi anni prima, lei era rimasta sola, triste e non era più la stessa. Lei raccontava sempre del grande amore che c'era stato tra lei e il nonno e dei molti anni meravigliosi trascorsi insieme. Di come lui la coccolava, dei beviaggi con la carrozzina a cavallo, dei doni che le donne calabresi facevano al nonno quando lui andava nei paesi a vendere loro il corredo, i tessuti e le stoffe. Infatti la nonna mica era chiamata donna mica a pezzara. Si ricordava anche delle romantiche gite a piedi fino a Porto Santa Venere. Nonna mica era contenta dell'uomo che aveva sposato, bello, intelligente, educato, gentile, estruito, colto, lettore di romanzi e di grandi classici letterari. Un angelo in carne ed ossa. Parlava così anche di suo padre, diceva anche che lui l'aveva viziata molto. Era una donna davvero fortunata, ma se lo meritava perché lei si incastrava bene col nonno. Entrambi erano fatti l'uno per l'altra. La cosa che mi colpisce di più adesso ripensandoci è di come lei riusciva a trattarsi con amore, a prendersi cura di sé e degli altri. Anche in un modo così dolce e spirituale era incredibile. Anche se era rimasta da sola si dimostrava forte, gioiosa e amorevole con tutti. Pregava tutti i giorni, andava a messa ogni santa sera. Faceva i fioretti alla madonna e se qualcuno stava male per aiutarlo a guarire, il venerdì non mangiava carne né dolci. Pregava anche per me e mio fratello, per la mia mamma e il mio papà e per tutti i suoi nipoti. Si dimostrava generosa in tutti i sensi. Faceva i regali, i regali, i regali a tutti. E guai a che sgridava i suoi nipoti. Era una donna molto sofferente ma non lo dava a vedere. Tra le tante malattie, diabete, catarrata, asma bronchiale che gestiva in maniera eccellente, aveva una piaga alla gamba destra, un'ulceretta che si provocò un giorno lontano quando purtroppo si rovesciò il bracere addosso involontariamente, procurandosi una piccola ustione che forse non guarì mai completamente. E sembra di vederla adesso. Si curava solo con le pomate antibiotiche, allora non c'erano altri metodi di guarigione, e si fasciava la gamba, quotidianamente, e nonostante il bruciore e il dolore della ferita, lei andava a seguire la messa ogni sera, con il sole e con il vento, con la pioggia e con la neve, percorrendo la salita che dalla terra vecchia dove abitava portava fino alla chiesa di San Neoluca. Quando ero diventata più grande e frequentavo la compagnia della mia parrocchia di San Giuseppe, trascorrevo i weekend da lei. Iniziavo ad essere più grandicella e lei ad essere un po' più anziana, ma la compagnia le faceva molto piacere. Così invitavo i miei cugini e i miei compagni fidati a casa sua e ci riunivamo nell'orto, il nostro grande e antico giardino, per giocare e divertirci. Ed io mi sentivo orgogliosa di presentare questa nonna speciale a tutti. Lei, sorridente e felice della nostra presenza, ci offriva un buonissimo gelato a forma di pipa, che compravamo dal Megna, il bar che si trovava lì vicino, e per noi era un'immensa gioia consumare il gelato in compagnia di altri bravi ragazzi. Nonna mica era tanto generosa, noi la consideravamo come una santa in terra. Mi faceva sentire come se io fossi qualcosa di meraviglioso. Nessuno mi ha fatto sentire così bella e importante come mia nonna. Quando capitava che i miei genitori uscissero per lavoro, rimanevo a cena da lei e mi cucinava la soglioletta o le polpettine di vitello e un sacco di cose deliziose. E poi la sera, quando guardavamo la tv con mio fratello, ci copriva sempre con un plate per non farci prendere freddo. Quanto era premurosa e adorabile nonna mica. Qualche volta l'accompagnavo in chiesa, dove lei andava a Salio Luca o al crucifisso degli angeli e mi parlava di Gesù e della Vergine Maria e poi naturalmente mi insegnava a pregare. Ogni volta che ero con lei mi portava a fare la visita al Signore. Suppongo che volesse farmi prendere coscienza che nel tal Bernacolo c'era Gesù. Era una donna molto affettuosa che viveva la fede profondamente e me la trasmetteva. Quando ero piccola mia nonna mi fece un grande dono, anche se io allora non me ne rendevo conto. Quelle conversazioni tra nonna e nipote non erano inutili. Quando ci recavamo in chiesa per una celebrazione religiosa e vedevo che la gente riceveva la comunione, sentivo un gran desiderio di riceverla anch'io e mi emoziono a raccontarlo ancora. Sono cresciuta con un profondo anelito religioso e andare in chiesa per sedermi davanti a Gesù mi donava molta molta pace. Io andavo e gli raccontavo le mie cose. Sentivo un'attrazione per i tabernacoli delle chiese. Era una cosa che non mi lasciava indifferente. Quanto mi ha insegnato questa nonna, questa nonna grandiosa, questa nonna gioiosa, questa nonna che ha meritato tutto il paradiso, tutto che si è guadagnata davvero con il suo amore che ha dato a noi nipoti e al mondo. Grazie, grazie mille per avermi ascoltata. Alla prossima. Contami la Calabria, aspetta camota a conto. Alla prossima.